Ben trovati, l'allarme del Presidente della Camera di Commercio Alfredo Prete e anche di altre istituzioni locali rispetto all'aumento vorticoso dei prezzi verso i turisti che affollano il Salento è un allarme accettabile, giustificabilissimo, perché il Salento è esploso, Lecce e provincia principalmente ed è diventato momento di attrazione nazionale e internazionale, ma derubare il turista non credo sia giusto, l'esempio che viene fatto, un primo a 35 euro con qualche accessorio nel pranzo e nella cena sono cifre da capogiro e così rischiamo di farli scappare, ma dobbiamo anche pensare però che tanti commercianti o esercenti pubblici come ristoratori e bar soffrono un paese ladrone, soffrono delle pubbliche amministrazioni che purtroppo interpretano i voleri nazionali imponendo tassazioni anche eccessivamente alte, per cui gli spazi, l'occupazione di solo pubblico a volte, troppe volte, sono esosissimi, per cui il commerciante, l'esercente pubblico deve pur recuperare da qualche parte, ci vorrebbe la giusta via e la giusta via sta proprio in quella riforma del paese, in quella rivisitazione della tassazione, in quella volontà di essere momento di governo nazionale ma non di un governo Dracula che succhia il sangue di chi ha investito, perché il Salento è esploso non solo grazie al mare e al barocco, ma è esploso per un'offerta, una serie di servizi che dei privati stanno offrendo, offrono da qualche anno e speriamo possano continuare a offrire per i prossimi decenni, investendo di tasca propria, creando le condizioni affinché il barocco e il meraviglioso mare, la natura e gli uliveti diventino sia attrazione ma farciti con i giusti servizi. Se non ci fossero stati i privati probabilmente il Salento non si sarebbe acceso così come adesso o sarebbe stata una scintilla, non un fuoco immenso che riesce a catturare le voglie di essere qui con noi su questo territorio. Allora è giusto che le istituzioni vigilino, è giusto che tutti quanti prendano a cuore il trattamento offerto ai villeggianti, è giusto quindi che i ristoratori, bar e altre attività non vadano a speculare in modo disonesto ma è giusto che tutte le istituzioni si facciano portavoce degli interessi di coloro che sino a ieri nei loro investimenti non avevano certezza di produrre un utile, di produrre un reddito. Oggi questo c'è ma contemporaneamente a volte manca l'occhio non cattivo dello Stato, delle pubbliche amministrazioni così come purtroppo le spiagge ancora in molti tratti libere non sono gestite come dovrebbero essere dallo Stato che però pretende le tasse dai cittadini per garantire certi servizi che poi nella realtà non sono spesso purtroppo garantiti. A domani.